L'informazione è libera, completa, diretta. Foggia TV, Radio Master, Foggia Post e Foggia Gold.it si ritrovano in un progetto editoriale comune in grado di offrire al territorio un punto di riferimento importante, strategico, unico. TV, radio, quotidiano digitale serale, ma anche internet con i siti delle emittenti coinvolte e loro partner. Tutti insieme per offrire più notizie, più servizi, più opportunità. Nasce così un pool informativo di grande respiro, un modo concreto per dare la giusta spinta al territorio. Foggia Post, Foggia Gold.it, Radio Master e Foggia TV. Insieme per te.